Sulla costa sud dell'Irlanda si trova la città di Cork, la seconda più grande in Irlanda dopo Dublino. A 22 chilometri da essa si trova una gemma del turismo irlandese, il paesino costiero di Kinsale che per le sue attività marinare può definirsi la portofino d'Irlanda. Kinsale ha circa 5.000 abitanti e una cinquantina di alberghi e B&B e più di 30 ristoranti. Per gli amanti delle attività marinare e per mangiare del buon pesce Kinsale è senz'altro una meta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!